Il contratto di lago per la tutela e lo sviluppo di Massaciuccoli ha avuto l'approvazione in Consiglio Comunale e da oggi è diventato realtà. Si tratta di uno strumento di programmazione strategica per la riqualificazione e valorizzazione del lago a cui il Comune di Massarosa, a cui il Comune ha lavorato da diverso tempo, con un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 150 soggetti, tra enti, associazioni e cittadini. Nel mese di marzo sarà approvato dagli enti che hanno firmato il protocollo verso il contratto di lago, ovvero il Comune di Vecchiano, Viareggio, il Consorzio di Bonifica, il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l'autorità di bacino distrettuale a Pennino Settentrionale, ma è prevista la possibilità di firma anche per associazioni, gruppi e privati cittadini che vogliono impegnarsi per la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori lacustri. Siamo usciti con questo documento che ovviamente ha una concertazione di tutte le azioni che hanno venuto fuori dal percorso partecipativo, ne sono state selezionate 16, condividendo con gli enti e dall'approvazione del contratto per il Comune di Massarosa adesso sarà agli altri enti l'approvazione, ci sarà poi una firma tutto insieme a fine mese. Sono contata appunto di questo lavoro perché abbiamo portato in Versilia, nella provincia di Lucca, un nuovo approccio appunto di lavoro intorno al tema lago, quindi il lavoro che sono messo in campo adesso sarà risorsa di tutti, dei comuni, degli enti, ma anche poi dei cittadini che potranno poi in futuro sottoscrivere se vogliono questo contratto.